nella playlist i diluvi abbiamo raccolto una serie di dati sia geologici che archeologici che scritturali che ci hanno permesso di ricostruire l'evento chiamato diluvio di noè nella bibbia quindi abbiamo ricostruito che questo evento è stato provocato dall'asteroide distruttore che ha percorso la rotta descritta nel mito di fetonte passando quindi sull'himalaya sciogliendo i ghiacci che hanno fornato due enormi valanghe d'acqua queste due enormi valanghe una si è riversata in cina e di questa sono state ritrovate i resti geologici date datati proprio nel 2000 avanti cristo secondo le datazioni della bibbia e da questa parte invece questa valanga d'acqua si sarebbe poi avrebbe creato un enorme allagamento che viene scritto nella bibbia come il diluvio di noè e poi piano piano si sarebbe smaltita parte attraverso la grecia creando questo dilavamento e parte attraverso la russia come testimoniato poi da altri reperti che abbiamo raccolto in questa playlist e la ricostruzione di questo evento ci permette tra l'altro di fare luce su un fatto che è abbastanza misterioso la questione delle lingue indoeuropee infatti c'è un funzionario britannico nel 1786 presentò una relazione questo signore oltre a essere un funzionario era anche esperto linguista e quindi pubblica una relazione in cui disse che al di là di ogni dubbio c'era una parentela storica tra il greco il latino e il sascrito la lingua che viene parlata in india in questa zona quindi non si sapeva il motivo per cui c'era una forte parentela tra la lingua che si parlava in queste zone e le lingue europee da cui si è ipotizzato che c'era una radice comune ecco oggi si facevano un sacco di ipotesi oggi abbiamo degli elementi per dire che questa radice comune erano le popolazioni di profughi che risedevano in queste zone che noi qui abbiamo indicato come il mare di noè che di fronte a questo diciamo cataclisma emigravano appunto come le acque in parte verso il nord e in parte verso l'india passando da questa zona che viene chiamata appunto la valle dell'india allora questo evento è anche questo datato infatti abbiamo che ci sono queste popolazioni che gli archeologi ritengono che stavano appunto come diciamo noi in questa zona che si riversavano nel nord dell'india ma diciamo questa a questa ricerca mancava la componente europea cioè non si capiva perché poi questa migrazione ce ne fosse anche un lato europeo perché qui c'era una catastrofe quindi quelli che si salvavano da su andavano verso l'europa quelli che si salvavano da qui andavano verso l'india ecco questa invasione è storicamente documentata sono due una popolazione che immigrò qui che si chiamavano gli ari che soppiantò la popolazione che abitava questa città mojodaro che si chiamava la la popolazione arappa che è stata secondo questa ricostruzione insieme alla civiltà sumera distrutta dal passaggio del distruttore quindi il distruttore ha diciamo decimato queste popolazioni della valle dell'indo e dei sumeri che poi sono stati sostituiti da altre popolazioni nel caso dell'india queste popolazioni sarebbero gli ari quindi i superstiti del diluvio sarebbero si sarebbero divisi in due rami una parte sono andate verso l'europa e un'altra parte sono andati verso l'india e diciamo sono diventate la civiltà predominante che ha dominato il residuo degli arappa quindi gli ari nel 2000 avanti cristo hanno soppiantato gli arappa che erano stati decimati dal passaggio del distruttore e quindi noi abbiamo una lingua in cui sono scritti delle scritture i veda quindi questa popolazione che è emigrata nell'india nel 2000 avanti cristo ha portato un enorme patrimonio scritturale i cosiddetti veda in cui diciamo questo patrimonio è appena appena esplorato è molto più esteso di altre letterature come quella greca quella latina diciamo è un patrimonio ancora in traduzione è scritta in lingua devangari che sarebbe l'alfabeto devangari che significa la scrittura degli dei questo già ci fa accendere qualche campanellino quindi questi veda sono scritti in sascrito e con un carattere che si chiamano devangari che sarebbe la scrittura degli dei quindi diciamo i ben pensanti tradizionali dicono no vabbè scrittura degli dei volevano dire che è una scrittura fantastica fantastica e che quindi la chiamavano degli dei per dargli un attributo più speciale e invece noi come al solito siamo costretti a demolire queste ipotesi perché perché nel 1920 e 1919 durante la prima guerra mondiale un di questi saggi allora questi queste scritture vediche sono studiati da saggi che sono appartenenti alla religione hindu e che quindi studiano tutto questo patrimonio alcuni di questi testi in realtà non esistono scritti addirittura sono tramandati oralmente all'interno di scuole o di catene discepoli maestro uno di questi maestri che si chiama ma arshi baradvaya molto stimato in india e diciamo che mise per iscritto uno di questi testi che ora andiamo a vedere che ci ha fatto ci ha messo in condizione di dover coniare questo nuovo termine che abbiamo presentato come titolo del video introduzione alla paleoastronautica il testo si chiama vimanika shastra vimanika sono mezzi aerei nel linguaggio sanscrito e perché siamo dovuti arrivare a questa diciamo conclusione che nasce una nuova scienza la paleoastronautica perché questo testo è veramente particolare diciamo che contiene una serie di argomenti veramente sorprendenti qui elenchiamo di cosa parla questo libro parla di tecniche di volo e di combattimento di vari tipi di aeronavi nelle varie epoche teniamo conto che questo testo è stato messo per iscritto nel 1919 in cui ancora c'erano i primi vagiti di aeronautica qui io diciamo di solito non metto in gioco la testimonianza ma vi prego di prendere per buona la mia testimonianza che oltre ad aver studiato ingegneria sono appassionato di volo da una vita volo con il deltaplano e col parapendio e quindi vi dico che questo testo non può essere scritto da un saggio hindu del 1919 perché non c'erano tutte queste conoscenze tecniche che sono contenute in questo libro continuo a leggere ci sono vari tipi di aeronave che sono esistite nelle varie epoche antiche abbigliamento del pilota alimentazione del pilota un sistema di aree o vie cioè praticamente di strade aeree come ci sono adesso che collegano i vari aeroporti analisi tecnica e costruttiva di vari tipi di aeronavi di aerei a secondo delle tipologie descrizione delle leghe metalliche utilizzate queste con queste informazioni già all'università di nuova deli hanno brevettato alcune leghe funzionamento di vari dispositivi dell'aeronave quindi una descrizione dettagliata di come sono fatti queste aeree cosa che ha permesso di realizzare questi questi schizzi questi disegni che alcune dei quali sono stati costruiti i modelli e vengono provati nelle gallerie del vento dell'università indiane quindi questa scrittura degli dei abbiamo il vago sospetto che sia la scrittura di questi extraterrestri che colonizzano la terra